Il comune di Pettineo mette a disposizione lo strumento per far acquistare con consegna a domicilio nelle attività del paese. Per chi vive in una grande città un'iniziativa simile può sembrare poco rilevante, per un piccolo centro invece si tratta di un'innovazione notevole. Bisogna pensare infatti che quando si vuole acquistare qualcosa di solito si deve avere il numero di telefono del negozio o cercarlo, chiamare e informarsi della possibilità di riceverla a domicilio. L'amministrazione pettinese invece ha pensato di offrire un servizio gratuito a tutti i commercianti disposti ad effettuare le consegne. Grazie all'app del comune di Pettineo i cittadini potranno ordinare quello che gli serve dai commercianti ai ristoranti locali e farselo recapitare a casa. I negozianti interessati con una semplice procedura potranno registrarsi in un'apposita sezione dell'applicazione. A questa potranno poi accedere i consumatori che troveranno una mappa con l'indicazione delle attività che avranno aderito. Gli esercetti potranno scegliere se essere contattati con un messaggio su whatsapp o telefonicamente o direttamente dall'app. Il servizio è stato pensato in questo momento particolare con un duplice scopo. C'è innanzitutto l'intenzione di aiutare i titolari e lavoratori alle prese con la crisi, costretti a limitare l'afflusso e gli orari e spendere tanto per sanificare ambienti e accessori e poi si vuole incentivare la permanenza a casa delle persone per evitare i rischi che si corrono quando si formano file oppure quando ci sono numerosi clienti in una giornata che si avvicendano nello stesso locale. Il sindaco Domenico Ruffino dichiara la nostra intenzione è quella di aiutare l'economia locale incentivando le persone a comprare nelle attività del paese e ad uscire il meno possibile. Pensiamo soprattutto alle categorie più fragili come gli anziani che avranno la possibilità di ricevere tutto ciò che gli serve senza doversi spostare dal proprio domicilio. L'applicazione del comune è già stata scaricata da molti utenti e viene regolarmente usata con numerose funzioni che interessano residenti e visitatori.